ragazzi veramente non pensavo che veramente non pensavo che si riuscisse a arrivare a 50 iscritti su youtube è una cosa incredibile veramente per me 50 iscritti in tre mesi sono veramente tanti veramente 50 iscritti e 8300 visual qualcosa in più adesso gli iscritti nel giro di 10 minuti sono aumentati perché ne abbiamo uno in più 51 ragazzi veramente vi ringrazio di cuore siete fantastici e cerchiamo di arrivare entro la fine di questo anno a 100 iscritti e se arriveremo entro la fine di questo anno a 100 iscritti vi mostrerò alcuni dei miei vecchi video dove suonavo e ovviamente vi farò sentire qualcosa di vecchio dove suonavo o video o audio devo vedere un pochino comunque qualcosa di vecchio dove suonavo vi farò sentire quando veramente ero agli inizi quindi anche il 2017 io ho cominciato nell'ottobre del 2016 a suonare quindi diciamo che sono praticamente 5 anni quindi questi 5 anni veramente sono passati in fretta perché sono passati in fretta prima di quanto mi aspettassi e sono però stati i 5 anni veramente belli veramente belli e lo saranno anche i prossimi dato che come ho detto nel video andrò al liceo musicale l'anno prossimo o comunque se passerò in teoria dovrei andarci comunque ritornando al discorso di prima e ritornando a quello che c'è ora vi ringrazio di cuore dei 51 iscritti quindi nemmeno più 50 e veramente sono contentissimo vi adoro vi ripeto se cerchiamo di arrivare entro la fine dell'anno a 100 iscritti che raga 100 iscritti è tanto lo so benissimo anch'io è tanto 100 iscritti però secondo me secondo me ci possiamo arrivare secondo me se fate vedere il canale anche ai vostri parenti anche a tutti quelli che conoscete sono sicuro che 100 iscritti li facciamo quindi mi raccomando ragazzi non smettete di iscrivervi fate conoscere il mio canale un po' tutti quanti e niente io vi ringrazio ci vediamo con i prossimi video ciao a tutti